Il fenomeno degli abbandoni Un fenomeno importante non solo per l'immagine complessiva della città, ma anche per quello che significa in termini economici, con ricaduta sulla collettività. Si tratta di comportamenti incivili e ingiustificati, alla luce dei servizi gratuiti che sono a disposizione, come i centri di raccolta differenziata. MMS ha realizzato una rete di centri di raccolta precisamente a Cagli, Carpegna, Fermignano, Fratterosa, Frontone, Gabicce Mare, Mercatello sul Metauro, Monte Grimano Terme, Pesaro, Piobbico, Sant'Angelo Invado, Sasso Corvaro Auditore, Urbania, Urbino, Vallefoglia Montecchio. Per informazioni sui centri di raccolta visita il sito www.gruppomarchemultiservizi.it Hai delle domande da porgere in merito alla raccolta differenziata? Scrivici al numero 370-366-7210. Ti daremo tutte le risposte.